Le comunità di Nago e di Torbole sono quelle che stanno pagando maggiormente, in termini di mancata vivibilità, di inquinamento atmosferico e acustico, di rallentamento del traffico e di sicurezza, la mancata scelta della provincia. È quanto emerso ieri sera, durante il Consiglio Comunale di Nago-Torbole, riunitosi in seduta straordinaria d'urgenza per discutere il tema della viabilità dell'abusa e, in particolare, per anticipare la chiusura della fase di valutazione ambientale del tanto agoniato collegamento San Giovanni-Cretaccio, prevista per domani. Presente l'ingegner Mario Monaco, del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie della provincia, che ha illustrato il progetto che collegherà con il tunnel Passo San Giovanni ad Arco, sbucando in località Cretaccio. Dopo una serie di considerazioni e prese di posizione critiche nei confronti della provincia da parte delle opposizioni, il Consiglio ha votato all'unanimità la mozione presentata dalle minoranze di Partecipiamo per Nago-Torbole e Insieme per Nago-Torbole, e condivisa con qualche lieve emendamento dalla maggioranza, che impegna il Sindaco e la Giunta a porre fermamente all'attenzione della provincia la necessità di realizzare in tempi brevi anche la circonvallazione di Torbole.